Pro Champions, due Supercoppe europee, due mondiali per club, questa la lista di trofei Messi in bacheca dai blaugrana dall'avvento di Leo in prima squadra Messi, nuovo Slalom, Messi, Messi scatenato, Messi in giro, appoggia, è incredibile Messi, calciatore totale che suprima in un surrogato di classe irraggiungibile concetti di individualismo e gioco per la squadra, magari non lidernato questione di carattere, d'altra parte, non si può chiedere proprio tutto a un campione che in caso di successo con l'Argentina in Coppa America si avvierebbe sommando il triplete stampato nel Barça verso un pressoché certo quinto pallone d'oro, un'enormità come le 100 presenze in Alpi Celeste condite da 46 reti, finora non sufficienti a riempire la casella mancante il mondiale per stare definitivamente lassù accanto al re del mondo niente di male, verranno altre stagioni, nuove vittorie, pioveranno Messi, di gol e immagino che...